Don Carlo è la perfetta dimostrazione di come un'opera possa essere bellissima Grandiosa, con una storia perfino che sta in piedi Ma poi finisce in una maniera assurda Prama Don Carlo, infante di Spagna, ama Elisabetta Il loro è uno di quei rari casi di matrimonio combinato Perfino gradito agli sposi che infatti si amano follemente In più, tali Meneo suggerirà la pace tra Spagna e Francia Tutto perfetto, no? Aspetta Siccome è tutto troppo facile e iniziare un'opera in Letizia proprio non va bene Viene deciso di non dare più Elisabetta in sposa a Carlo Ma a suo padre Filippo, che ovviamente lei non ama e che ha l'età di Matusalemme L'opera si apre sulla tomba di Carlo V, nonno di Don Carlo Di cui un misterioso frate stigmatizza la superbia La scena sembra abbastanza irrilevante ai fini della trama Ma la capiremo solo alla fine dell'opera Carlo, disperato perché gli hanno tolto Elisabetta sotto il naso Si confida con l'amico Rodrigo Il quale è sgomento quando Carlo gli confessa di amare quella che, avendo sposato suo padre, è diventata la sua matrigna E che in tutta l'opera viene tanto per efficacemente quanto erronemente definita madre E scusate ma madre matrigna non è esattamente la stessa cosa Rodrigo è preoccupato che il re Filippo scopra l'affaire fra Elisabetta e suo figlio Don Carlo Affaire che per inciso non si è concretizzato in nulla Perché figlio o non figlio finire al patibolo è un attimo Prima di proseguire nella trama parliamo un attimo delle Fiandre Regione che era sottoposta a un durissimo dominio spagnolo Non solo, essendo terreno fertile della riforma protestante La cattolicissima Spagna si impegna ad affrontare l'eresia Con le armi della tolleranza, del dialogo ecumenico e del rispetto delle idee altrui Rodrigo, per distrarre Carlo dal pericoloso rapporto con Elisabetta Gli propone di chiedere al re suo padre di essere mandato nelle Fiandre Per riportare la pace in quel tormentato territorio Ora facciamo la conoscenza della principessa Eboli La cui idiozia è superata solo dalla sua pericolosità Succede questo, Eboli ama Carlo Ma lei a lui non rientra neanche nello spettro visivo Proprio niente Senza quindi averle mai dato neanche la minima Eboli tuttavia ritiene che Carlo la ami E perché lo pensa? Questa è bellissima Eboli dice Un dì che presso la sua madre stava Ancora Matrigna Vidi Carlo Tremar Amor avria per me? No piccola andalusa arrogante Non ti ha neanche vista E a meno che non sia strabico Se guarda lei è innamorato di lei Non di te Non paga la cretina Si chiede Perché celarlo a me? Perché non ti considera? Perché non stava guardando te? È così difficile Carlo parla con Elisabetta E anche lei si ostina a chiamarlo Mio figlio Elisabetta ma a te sembra una buona idea E Carlo le chiede di intercedere Presso il re Filippo Perché questi acconsenta a mandarlo Nelle Fiandre Segue un concitato duetto di vario amore Durante il quale Carlo chiama Elisabetta Isabella Ok adesso qualcuno di voi mi dirà che Elisabetta e Isabella fondamentalmente sono lo stesso nome Ah sì? Provate a chiamare vostra moglie Elisabetta nell'intimità Isabella E poi fatemi sapere com'è andata Alla fine il duetto Carlo sviene Perché il sangue freddo e i nervi a posto Va bene a governare le Fiandre Si riprende Ci prova con lei saltando i preliminari Ma lei lo respinge Ben sapendo come abbassare il tasso di testosterone di un uomo Gli dice infatti A svenar corri il padre E all'or del tuo sangue macchiato all'altar Puoi menare la madre A ridaglie con la madre Matrigna Entra l'improvviso re Filippo Il quale fidandosi molto della moglie Aveva ordinato che ci fosse sempre Una dama di compagnia con lei Trovandola invece sola E con un uomo per giunta Dà il foglio di via alla dama della compagnia E la rispedisce in Francia Vabbè dai Dati i tempi poteva andarla anche peggio Filippo entra in confidenza con Rodrigo Di cui stima il valore e la fedeltà Lo tira quindi dalla sua parte E sospettando che Carlo Quando è con Elisabetta Non si limiti solo a svenire Questo è sottile e arriva dopo Gli chiedi di tenerli d'occhio Rodrigo quindi è combattuto Fra l'amicizia con Carlo E la fedeltà al re Atto secondo Carlo riceve un biglietto Per un incontro Che lui crede che gli abbia mandato Elisabetta E invece è stato mandato Dalla principessa Eboli Eboli si presenta velata E indovinate un po' Carlo crede che sia Elisabetta E le fa una dichiarazione d'amore Che scioglierebbe un iceberg Eboli gongola E ci rimane un filo male Quando si smaschera E Carlo vedendola Ci resta di sasso Ah sei tu Lei allora capisce che lui Ama un'altra E la prende bene Quando la femmina ti si offre È periglioso E la di poi si vendica Innanzitutto sparge in Carlo Il seme del dubbio Riguardo alla fedeltà Dell'amico Rodrigo E una volta capito Alla buon'ora Che l'amata da Carlo È Elisabetta Minaccia di spifferare tutto il re Intervene da Rodrigo Cercando di minimizzare Il problema di Carlo Dandogli fondamentalmente Del povero idiota E non è che abbia tutti 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 i torti Ma Eboli non ci casca E Rodrigo allora Per tenere segreto il segreto Passa al piano B Cerca di pugnalarla Ma Carlo glielo impedisce Eboli esce di scena Pericolosa come una vedova nera Rodrigo si fa consegnare da Carlo Di documenti compromettenti Che se li venissero Trovati addosso Gli farebbero battere Il record mondiale Di raggiungimento del patibolo Tanto in piazza Si sta preparando Un gioioso auto da fe Ovvero in estrema sintesi Una liberazione di massa Dei propri oppositori Che il santo uffizio Ha organizzato Tramite il nobile Anticarte del rogo Giustamente il libretto recita Le campane suonano a festa E ai tempi mica la gente Ve a Netflix Per passare il tempo Carlo ribadisce a Filippo La sua richiesta Di essere mandato Nelle fiandre E vede in questa esperienza Come una sorta di stage Per quando sarà re Gli dice infatti Se Dio vuoi che il tuo certo Questa mia fronte Un giorno a Cinger venga Prepara per la Spagna Un re degno di lei E qui abbiamo un problema Perché per quanto ne so io L'infante di Spagna È il secondo genito Ovvero proprio quello Che non diventerà re E quindi questa richiesta Appare oltremodo bislacca Se fossero tra voi Esperti di Araldica Chiedo loro di scrivere Nei commenti Se ho capito male io Comunque sia Carlo porta da Filippo Degli ambasciatori Delle fiandre Che invocano la pace Filippo però dimostra Scarso senso di responsabilità E li fa allontanare E attenzione Che aggiungere qualche posto Al rogo Si fa presto Carlo allora perde la testa E minaccia Filippo Con la spada Solo l'intervento di Rodrigo Riesce a calmare Carlo Che però ormai Solo per il gesto che ha fatto È fottuto Infatti viene arrestato Filippo è imbufalito E per farsi passare la carogna Sa che non c'è niente di meglio Di un'esecuzione di massa Dal libretto quindi Prende posto nella tribuna Per assistere al falò Tranne i condannati Tutti trovano Uno show memorabile Terzo atto Filippo capisce Che sposare Elisabetta Non è stata una gran pensata E quasi con sorpresa Si trova a dire Io la rivedo ancora Contemplare triste In volto Il mio cream bianco Il dì Che qui di Francia venne Caro Pippo Ti ricordo Che l'avete sottratto Il suo innamorato Tu hai l'età di suo nonno Cosa volevi di lei Le caprioli di gioia Siccome il rogo Non l'ha saziato appieno E gli è rimasto spazio Per un dolcetto Filippo decide di rimettere a morte Anche suo figlio Carlo Dato però Che ha bisogno Di una soluzione E non si sa mai Un domani La chiede al grande inquisitore Una sorta di amministratore delegato Del santo uffizio in Spagna Il quale non vede ragione Forse anche perché è cieco Per cui Carlo Non possa essere giustiziato Essendosi opposto Pubblicamente al re Il frate Quindi assolve Da ogni colpa Filippo Ma non lo fa a gratis In cambio vuole la vita di Rodrigo Che è portatore di idee Troppo rivoluzionari Per i suoi gusti Filippo è dispiaciuto Più per Rodrigo Che per suo figlio Ma consente E il grande inquisitore Se ne va soddisfatto Perché sta riempiendola Al di là Di anime fresche Entra Elisabetta A cui è stato rubato Uno scrigno Tale scrigno è misteriosamente Nelle mani di Filippo E al suo interno Un ritratto di Carlo Lascia poco spazio All'immaginazione Filippo è convinto Che i due Abbiano una relazione Elisabetta Sviene Scopriamo che è stata Eboli Accecata dalla gelosia A consegnare lo scrigno A Filippo Ormai in ritardo Eboli chiede perdono A Elisabetta La quale la condanna A rinchiudersi in un convento Prima di farlo però Eboli decide Di liberare Carlo Carlo intanto L'ango in prigione Rodrigo lo va A trovare Con delle arance E gli dice Che le accuse Contro di lui Cadranno Perché ha fatto Trovare su di sé I documenti compromettenti Ricapiteniamo Perché qui c'è Un piccolo bug Nel sistema Carlo era stato arrestato Per aver tentato Di aggredire il re Sì Vi erano anche I sospetti Che lui potesse essere Un agitatore delle fiandre Ma la fin fine Nessuna prova Se anche quindi Questi documenti Compromettenti Lo scagionassero Indirettamente Perché trovati Su Rodrigo Resterebbe comunque Con quella colpa Di aver aggredito il re Colpa più che sufficiente Per guadagnarsi Un passaporto Per il patibolo Rodrigo quindi Sembra essersi sacrificato Per nulla A toglierci Ogni dubbio Su questo aspetto Della trama Ci pensa un sicario Del re Che spara Rodrigo Uccidendolo Arriva Filippo Che sembra Aver perdonato Carlo Il quale però Non prende Molto sportivamente La morte Dell'amico E si ribella Nuovamente Al re Suo padre Filippo Che cinque minuti Prima aveva ordinato L'uccisione di Rodrigo Improvvisamente Si pente Sul suo cadavere Nel finale Dell'atto La situazione Precipita Il popolo Insorge Per chiedere La liberazione Di Carlo Che veramente Filippo Aveva già liberato Arriva Eboli Mascherata Che fa scappare Carlo E' già libero In che lingua Ve lo devo dire Il popolo Insorto A questo punto Non avrebbe più Motivo di insorgere Arriva comunque Il grande inquisitore A sedare una rivolta Che è già bella Che è finita Quarto atto L'opera si chiude Dove si era aperta Sulla tomba Di Carlo V Elisabetta Si incontra con Carlo Lo esorta A partire Per queste benedette Fiandre E a dimenticare Il loro amore Come pietra Tombal Ormonale Sul loro rapporto Si salutano con Addio mia madre Addio mio figlio Arrivano senza ragione Filippo Il grande inquisitore Che avendo sorpreso Carlo ed Elisabetta A fare Niente Condannano Carlo A morte Per tradimento Sedizione Adulterio E già che ci sono Per peculato Guido in stato di brezza E abbigeato E ora fermiamoci In mistica contemplazione Per il finale Dell'opera Abbiamo finora Avuto una trama Che Pur con un paio di nodi Poco chiari Alla fine Sta in piedi E scusate se è poco Ma i librettisti Proprio non ce la fanno Non buttare tutto in vacca È più forte di loro L'opera Potrebbe concludersi Con Carlo Che viene ingiustamente Mandato al patibolo Invece no Troppo facile Vi ricordate il misterioso frate Quello che condannava La superbia del nonno Di Don Carlo Carlo V Bene Quel frate è Carlo V Che in realtà Non è mai morto Non oso pensare Che non si è perdito Il suo posto Improvvisamente Tutti lo riconoscono Ed è lì Trascina Don Carlo Con sé nel chiostro Non si capisce A far cosa Fine dell'opera Giuro Iscrivetevi al canale Oppure scoprirete Che vostro nonno Non è morto E dovrete ridargli L'eredità Ci vediamo Alla prossima trama Raccontata male Grazie